Mi devi rispondere sinceramente da dirigente, tu ti metti in contatto con un allenatore e questo allenatore ti dice, gli proponi un contratto, a parola naturalmente, di due anni e questo allenatore ti dice, in questo caso lei che ti dice, sì sì vengo, vengo sicuro, però questo fa di tutto per rimanere al Milan, tu l'avresti preso questo allenatore? Si fa fatica adesso a giudicare perché non si era presenti, quindi non si è capito cosa si sono detti veramente. Bisogna vedere se ha detto sì sì vengo sicuro. Io credo che Allegri fosse la prima scelta sicuramente della Roma, la Roma si è stata spiazzata da questo dietrofront, a maggior ragione perché vengono da due scelte che non sono state felici per quanto riguarda l'allenatore, quindi adesso effettivamente un po' di confusione, si sente un po' spiazzati, credo che sarà molto difficile perché la Roma è una squadra che a livello di singoli ha potenzialità altissime, che però probabilmente in questo momento qua deve trovare la persona che riesca a far girare il meccanismo e purtroppo le prime due scelte... Grazie! 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 Grazie!